Cristina Chicasini, buongiorno! Buongiorno! Benvenuta qui nel posto delle parole, anzi, a dire il vero bentornata qui nel nostro podcast, questa volta per raccontare qualche cosa che è veramente un oggetto plurale questo libro. E la pluralità la scopriremo fra poco, è una pluralità molto interessante, anzitutto proprio a cominciare dalle firme, no? Cristina Chicasini, insieme con Lapida la Gallina, autrici di Luoghi Introvabili, e questo libro pubblicato dalla casa editrice Barth. Ricordo che Cristina Chicasini è regista, autrice, vincitrice anche del Globo d'Oro 2016, con il corto tra le dita, noi c'eravamo sentiti per il libro con Henri de Toulouse-Lautrec fino a 21, Luoghi Introvabili invece è un passo avanti, è un qualche cosa di completamente diverso rispetto a quello che può essere la presenza di un libro, anche se di libro qui si parla, perché è effettivamente fisicamente un libro, ma può essere anche qualche cos'altro. Cristina Chicasini, andiamo subito a individuare questo qualcos'altro a questo punto. Sì, dunque, diciamo che è un progetto abbastanza trasversale, perché oltre a unire il collage, che è già una tecnica particolare per illustrare quella che è appunto la graphic novel di cui hai parlato prima, questo libro è legato anche a un podcast, un podcast all'interno del quale i personaggi che fanno parte del libro prendono vita impersonati e interpretati da diversi attori. Quindi non è propriamente un audiolibro, ma è un progetto. A me mi hanno sempre affascinato i drammi, gli sceneggiati, in cui appunto c'erano diversi attori che interpretavano solo a livello sonoro attraverso la radio delle storie, mi apre un immaginario infinito. E quindi l'idea di poter fare un progetto che avesse sia le immagini, i suoni e storie assolutamente surreali diciamo che è stato un momento in cui avevo bisogno e avevamo anche con Linda, che è Linda Sorrenti, è il nome di Lapida la Gallina, la ragazza che ha fatto le illustratrici e che è una storica dell'arte. Ci siamo volute decisamente divertire con l'aspetto più ludico di questo, tra virgolette, mestiere. Proprio nell'ottica di lasciare andare la fantasia, in senso, posso citare Rodari, ecco, fra le cose che possono rappresentare meglio il modo in cui abbiamo lavorato. Penso di aver detto abbastanza. Eh sì, e poi citare Rodari è sempre bello, ma è anche molto impegnativo, no? Molto. In quanto autrici, vero? Assolutamente sì, infatti mi dispiace dover sempre citare qualcuno, però è per dare dei fonti di riferimento quando il lavoro è completamente diverso dai canoni. Io dico che l'ispirazione è quella, poi chiaramente raggiungere una tale presenza, non mi permetterei mai, diciamo che è l'ispirazione. Se vuoi posso dire, posso un paio di nomi degli attori che hanno partecipato. Io farei molto di più, Cristina, io li ricorderei tutti quanti, perché sono tutti importanti gli attori di questo mirabolante cast del podcast da ascoltare. Perfetto, grazie Livio. Tanto li avrei detti tutti, comunque non sento di poterne dire solo alcuni. Allora c'è Chiara Cardea, Alessandro Benvenuti, Gabriele Tiziani, Cristina Gardumi, Giovanna Maina, Paolo Pollocioni, Guglielmo Favilla, Elsa De Beliloschi e Giacomo Battaglia. Ecco, questi sono tutti gli attori che hanno partecipato e realizzato il podcast interpretando questi personaggi completamente fogli e surreali. Fogli e surreali, ma quanto mai veri, Cristina Chicasini, in questa storia scritta insieme con Linda Sorrenti, ovvero Lapida la Gallina, questo nom de plume sicuramente particolare, luoghi introvabili. Andiamo subito dietro le quinte, perché la cosa, penso, affascinante anche a raccontare come sono nati queste pagine, queste tavole, anzi perché sono delle vere e proprie tavole artistiche. Ecco, come sono nate insieme con Lapida la Gallina, Cristina? Sì, dunque, io avevo prima realizzato il podcast e mi piaceva l'idea di realizzare il libro come se fosse il backstage del podcast, quindi appunto non un audiolibro, ma qualcosa che fosse più transmediale. Linda è folle come me e ci siamo perfettamente trovate nel cercare un approccio a questi personaggi che non fosse canonico, anche nella scelta delle immagini da ricontestualizzare, riutilizzare, perché appunto il collage poi alla fine riutilizza tanto materiale che appunto esiste. Abbiamo lavorato con, sono stati appuntamenti settimanali che abbiamo fatto online, in cui durante la settimana lei elaborava la sua interpretazione attraverso il testo e assieme poi la rivedevamo per cercare di capire in che direzione muovere, smussare quello che era stato fatto. Quindi un lavoro di grande complicità e Linda è stata fantastica per me, perché comunque il suo modo di vedere le cose era sempre sorprendente per me, quindi è stato proprio un bel lavoro che è durato un annetto. Sorprendente per te, sorprendente anche per noi lettori, perché ogni pagina, ogni tavola è una sorpresa, ma non perché chi abbia scritto, ideato questa storia abbia voluto semplicemente coniugare il verbo stupire. No, qui non si tratta di semplicemente stupiro, come dicevano i francesi un tempo, pure patele bourgeois, non si tratta di quello, ma è uno stupore che nasce proprio dalla costruzione dell'immagine delle parole. Sì, abbiamo fatto un bel lavoro di ricerca iconografico e sì, abbiamo cercato di trattare argomenti intimi che ognuno di noi porta dentro anche in maniera, ognuno a modo suo, però in una maniera il più stravolgente possibile, trasversale, sorprendente, giocosa, ironica, paradossale. Mi fermo, se no non la smetto più. A proposito di stupire, per esempio, mi viene in mente, e come non ricordare una cosa del genere insieme con molti altri, a domesticare il cuscino in maniera da poter controllare i propri sogni, ma io lo trovo veramente, è poetico tutto questo, Cristina. Sì, ci piaceva unire la poesia a un aspetto, in questo senso dico, l'ispirazione era Rodari, una fantasia che fosse profonda, non dico che ci siamo riusciti, io dico l'ispirazione, che fosse da un lato appunto poetica profonda e dall'altro liberatoria, perché molte cose in questo periodo erano pesanti e quindi abbiamo sentito il bisogno di aprire delle porte verso dei percorsi imposti appunto introvabili, surreali, che d'espiro facessero pensare, ma anche in maniera leggera, ecco. In maniera leggera, e qui torno, Cristina, alla costruzione di queste pagine, no? Potremmo definirle dei collage, ma è molto di più di un collage che di per sé già è già qualcosa di importante. Ecco, io vorrei proprio entrare in una tavola, Cristina, e capire come nasce, per esempio, questo insieme di immagini messe in pagina. Ce le vuoi raccontare? Una pagina in particolare? Allora, posso dirti che noi lavoravamo sui personaggi. Prima cercavamo di costruire un personaggio. Per esempio, posso dirti che, ora lo trovo, ecco, Alma Onbigos, che è la addomesticatrice di Ombelichi. Abbiamo scelto come icona di riferimento la prima drag queen della storia, che si chiama William Dorsey Swan. Tutto questo, chiaramente, fa parte della nostra ricerca, perché l'idea era che questo lavoro, questo progetto fosse come una serie di scatole cinesi, entro cui ogni particolare portasse a incuriosire, a vedere da dove poteva partire. In base alle immagini che trovavamo, poi veniva costruito attorno da Linda una costruzione che, appunto, questo potrebbe raccontartelo meglio Linda. E poi assieme cercavamo di trovare le tonalità giuste, perché poi ogni personaggio ha un suo colore di riferimento, no? Tra l'altro vorrei toccare anche il tema della titolazione, no? Di questi ambienti di immagini e parole. Poco fa Cristina Casini ci ha raccontato degli Ombelichi, ma c'è anche la domesticatrice degli Ombelichi, c'è per esempio il lanciatore di insulti, e non costa nemmeno poi così caro, quindi potrebbe anche essere un'opzione che si potrebbe prendere in considerazione. E poi sono insulti che vanno bene, sono insulti carini. Ora qui il salto della fantasia, e qui ritorna lo spirito di Rodari, il salto della fantasia che è stato fatto è un salto enorme, no? Perché è vero, noi quando leggiamo la domesticatrice degli Ombelichi per esempio sorridiamo, però bisogna arrivare a quella situazione di narrazione, Cristina. A quella situazione di narrazione? Mi stai chiedendo come sono nati i personaggi? Ti sto chiedendo proprio come arrivare alla titolazione di queste storie, la dissegnatrice di personalità, no? E' chiaro che tutto questo arriva dal podcast, perché poi noi parliamo del libro, ma non dobbiamo, non dobbiamo dimenticare il podcast. E qui vorrei aprire una parentesi, che poi non è una parentesi, perché create una parola nuova, penso, cioè il Mockat Podcast, che sarebbe poi una derivazione dal Mockumentary. In pratica sarebbe il raccontare delle storie che non corrispondono al vero, però in maniera reale, vera. Tra l'altro io ero frequentatore di uno dei festival più belli a cui abbia mai assistito, esattamente il festival dei Mockumentary. Trovavo quest'idea bellissima, raccontare il non vero come se vero fosse. Sì, sì, io vengo da... ho sempre più o meno lavorato nel documentario, quindi l'idea del Mockumentary per me è affascinante, bellissima. Cioè l'idea di raccontare con lo stesso linguaggio di un documentario dei fatti assolutamente immaginari, mi piaceva poterlo far diventare anche un podcast in quel senso, cioè prendere il linguaggio del podcast d'inchiesta o del podcast di viaggi turistici e riportare invece il tutto in luoghi che appunto fossero introvabili, immaginari, surreali. Per cui luoghi introvabili è un'indagine che fa appunto la nostra intervistatrice in questo emporio polifunzionale risoluzione problemi di K, all'interno del quadro ci sono cinque botteghe artigiane. Ogni proprietario di questa bottega viene intervistato per spiegare il proprio mestiere e alla fine spesso uno dei clienti viene intervistato anche lui per sentire la propria, la sua esperienza. Per quanto riguarda il libro e il podcast sono appunto collegati, ogni titolo, ogni capitolo è collegato a una puntata del podcast, per cui nel titolo per esempio appunto della domesticatrice di Ombelichi c'è un QR code che noi possiamo inquadrare e che ci porta direttamente a poter ascoltare il podcast che dà voce a questi personaggi. E dà voce a questo libro intitolato, e il QR code lo ricordo si può trovare, al termine di questo libro orizzontale dei luoghi introvabili e questo podcast si trova sulle varie piattaforme di streaming. Luoghi introvabili pubblicato da Barta e adesso Cristina Chicasini. Ci vuoi raccontare l'immagine di Copertina? Dunque, l'immagine di Copertina abbiamo cercato di rappresentare, Louise Brooks è la nostra Virgilio, è colei che ci porta, è l'intervistatrice che poi farà tutte queste interviste ai personaggi e sorregge in qualche modo delle sfere all'interno del quale ci sono i cinque personaggi, appunto il ladro di ombre, la disegnatrice di personalità, il lettore di cuscini, chiedo scusa, la domesticatrice di ombelichi e il lanciatore di insulti. Ecco così, è rappresentata con dietro una mappa che appunto rappresenta il fatto che sono legate a dei luoghi che bisogna trovare e che in fondo al libro abbiamo la mappa dove sono questi luoghi surreali. Abbiamo la mappa però c'è anche un oggetto importante che è la bussola, però questa bussola non è che ci faccia trovare, ci fa perdere penso questa bussola in questi luoghi introvabili quindi credo che sia anche questa una delle mosse narrative, Cristina. Sì, sì, diciamo che per trovare i luoghi introvabili bisogna perdersi e perdere la bussola, ecco il paradosso, è tutto fatto molto sul paradosso, questo libro è su i giochi, i giochi di concetto ed immagine, ci sono anche un dodo e una zebra, chiedo scusa, che saremmo io e Linda, dodo e io sono la zebra e nella retro di copertina ci siamo noi di spalle che guardiamo questa mappa così in maniera molto, non mi viene l'aggettivo. Come si sono incontrate Cristina e Linda? Ce lo vuoi raccontare? Sì, allora, in realtà io e Linda ci siamo incontrate fisicamente a questo Lucca Comics perché io avevo visto dei lavori di collage di Linda su internet, mi piacevano, avevano il tiro secondo me giusto e l'ironia giusta per questo testo e come faccio io in maniera totalmente folle, contatto le persone, gli propongo progetti e se sono abbastanza folli di solito dicono di sì. Quindi abbiamo iniziato a lavorare per un anno sentendoci e vedendoci una volta a settimana online e poi ci siamo viste veramente e incontrate a Lucca, è stato bellissimo. E adesso ci ritroveremo per la presentazione il 28 marzo alle murate a Firenze. E sarà sicuramente una presentazione non tradizionale, non può essere una presentazione tradizionale, vero Cristina? No, vedremo cosa riusciamo a inventarci. Giustamente, inventare per scoprire e perdersi nei luoghi introvabili. I luoghi introvabili è il libro che abbiamo raccontato di Cristina Chicasini e Lapida la Gallina, ovvero Linda Sorrenti, pubblicato dall'edizione Barta. Ma prima di salutarci, Cristina, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Sto leggendo Le luci delle case degli altri, dichiara Gamberale. E in un minuto che cosa racconta? Mi piace perché racconta dei personaggi dentro un condominio e già questo mi affascina. Tutti collegati da una bambina di cui non si sa chi è figlia, cioè probabilmente è figlia di uno degli uomini che abitano in questo condominio ma non sanno di chi e quindi decidono di crescerla tutti assieme. Mi piace molto, è molto carino. Ricordo tra l'altro che il nuovo libro di Chiara Gamberale, pubblicato da Feltrinelli, è intitolato Adesso. E intanto grazie. Grazie davvero Cristina Chicasini per il tempo e per averci fatto perdere e ritrovare nello stesso tempo. Tra l'altro ricordo che in questo libro c'è anche un certo Pessoa, no? E quindi mi piace, mi piace ricordarlo ogni volta che leggo questo nome. Buona giornata Cristina e grazie di cuore. Grazie a voi Livio, grazie. Grazie a voi.